Consigliere Campana è ufficiale? È uscito dalla lista? È una mia riflessione sulla Russia Civica che ho fatto in maniera anche importante, anche perché si deve crescere, deve crescere, si deve cercare di verificare cosa poter fare per quanto riguarda appunto il futuro, che poi il futuro politico è sempre quello più importante per noi consiglieri. Qualche passaggio dalla mia Civica non mi è piaciuto, quindi l'ho detto anche a Mauro e ho parlato anche con Mauro, capire che fine farà la Russia Civica, perché credo che già quasi è finita, anche perché non c'è più collaborazione e accordamento fra di noi. Io non sono un politico, sono un uomo della città e la città appunto mi dice di dover lavorare per migliorare tanti aspetti e per questo motivo voglio lavorare per la città. Cos'è che non c'è stato prima di tutto? Condivisione? Condivisione appunto, non ci vediamo mai, è brutto questa cosa qui, sindaco ha problemi seri in mezzo alla giunta, si vede, in mezzo al consiglio pure, e qualcosa dobbiamo fare per poter svegliare questa città, perché poi veramente se ci mettiamo in mano la politica è brutto. Condivisione di un progetto politico con il consigliere di Sabatino? Beh, da lo sento pure, ci sentiamo anche lui, ha le sue idee, come anche le loro idee, vediamo cosa succede nel futuro. Considerato il non equilibrio, qual è il suo futuro nella maggioranza? Il mio è un futuro di crescita, perché la politica si fa sulle prospettive, si fa su quello che è un percorso condiviso e si fa coinvolgendo su un'idea, e non si fa contro qualcuno. Ragion per cui stiamo sentendo degli amici, dei consiglieri comunali che manifestano anche loro, insomma, delle perplessità in ordine a quello che sia stato l'andamento di questo primo anno e mezzo, e quindi su questo ci stiamo confrontando, anche per dare uno slancio a questa amministrazione che onestamente, credo, ristagna rispetto a quello che, ripeto, credo sia, debba essere, insomma, il principio in base al quale si sta insieme in un percorso politico. Potrebbe esserci il consigliere Campana? E' uno di quelli con i quali parliamo con piacere. Serviva il rimpasto di giunta effettivamente? Serviva il rimpasto di giunta e forse il sindaco non ha capito bene l'importanza. Il sindaco deve fare il sindaco e deve comandare da solo. I partiti e i big politici non devono comandare da lui. Credo che il sindaco rimascia solo e solo e nessuno lo sta proteggendo. Ecco perché dico al sindaco di fare lui il sindaco e di non farlo fare ad altri.